Sai risolvere le radici quadrate in tre secondi? No? Vuoi fare bella figura con i tuoi amici e fargli vedere una tecnica veramente fortissima? Bene, allora questo video è fatto per te. Se non l'hai fatto ancora, iscriviti al canale. A te non costa nulla e invece per me è un grosso favore. Bene, veniamo al nostro problema. Come risolvere la radice quadrata di 529 in brevissimo tempo? Bene, saprai sicuramente che la radice quadrata di 529 è uguale a più o meno 23. Ah, non lo sapevi? Bene, te lo dico io. Magari l'hai fatto con il tuo smartphone e puoi andare a controllare. Innanzitutto iniziamo a dire che oggi a noi interesserà, diciamo, il più 23, e cioè il modulo della radice quadrata, quindi soltanto il numero 23. Andremo a vedere una tecnica per stupire i vostri amici quando sei a cena e non sai di cosa parlare, magari anche la tua ragazza. Ecco, come andare a calcolare queste radici quadrate? Innanzitutto diciamo che è valido per i numeri da 1 a 100, e cioè 23, andremo a trovare i quadrati da 1 fino a 100, e poi esistono altre tecniche e magari vedremo successivamente. Come andare a trovare questa radice? Bene, ti faccio vedere una tabella che sicuramente conosci. Allora, riscriviamo qui sotto 529. Prendiamo questa tabella che di sicuro ti è familiare. È la tabella dei quadrati da 1 fino a 9. Ho evidenziato in rosso le finali di questi numeri. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ricordi come ti faceva fare la maestra? Scrivere le decine e invece le unità in maniera diversa. E questa è una cosa che a noi servirà. Infatti, noi dobbiamo andare a vedere la finale del nostro numero. Il nostro numero finisce per 9. Quindi, se finisce per 9, 9 sta qui e sta qui, vuol dire che il nostro numero che stiamo cercando finirà o per 3 o per 7. Perché 3 alla seconda fa 9, 7 alla seconda fa 49. Poi sceglieremo o 3 o 7. Arrivati a questo punto, cancelliamo le ultime due cifre e ci concentriamo soltanto sul 5. Andiamo sempre su questa tabella e questa volta guardiamo il numero 5. Si è qui a questo livello. Quindi noi andiamo a guardare questa riga qui e quindi il nostro numero inizierà per 2. Chiaro? 5 si pone qui. 4 è molto vicino a 5. Andiamo a vedere il numero subito prima del 5 e quindi il nostro numero inizierà per 2. Quindi avremo o 20. Il nostro numero sarà o 23 o 27. Come facciamo a decidere? Bene, il nostro numero è 2. facciamo questa semplice moltiplicazione. 2 per il successivo di 2 che è 3. 2 per 3 uguale 6. Torniamo qui. Noi stiamo decidendo. Vedete il nostro numero è 5. Quindi 5 è minore di 6 e quindi andiamo a scegliere il più piccolo dei numeri. 23. Il numero che stiamo cercando è 23. Ah, non ci credete? Ma sì, lo abbiamo visto prima. Bene, ma adesso facciamo qualche altro esercizio così ci ne espertiamo su questa bellissima tecnica che abbiamo imparato. Dopo 529 ti propongo una radice quadrata un pochino più grande, cioè la radice quadrata di... no, scriviamo in nero... 4096. Ebbè, questa ci mette in difficoltà, eh? Attenzione! Andiamo a prendere la nostra solita tabella. 4096. Ci dobbiamo concentrare sulla finale. 6. Andiamo a vedere i numeri qui che finiscono per 6. Sono questo e questo. Quindi il nostro numero finirà o per 4 o per 6. 4 o 6. Come facciamo a decidere? Lo decidiamo dopo. Adesso cancelliamo il 96, ci concentriamo sul 40. Il 40 è proprio qui. Qui 40 si pone a questo livello. Vedete? Si pone a questo livello. 36. Il numero subito prima. 36 di 40. E quindi il nostro numero inizierà per 6. Quindi il nostro numero sarà o 64 o 66. Come facciamo a decidere? Come prima prendiamo 6. Facciamo 6 per il successivo di 6 che è 7. 6 per 7 fa 42. Ora torniamo al nostro numero che è 40. 40 è minore di 42 e dunque prendiamo il numero più piccolo tra 6 e 4. Il numero che andavamo cercando è 64. Ah, tu non ti fidi. Non ti fidi. E allora andiamo a vedere. 4000. 0, 96. Ne facciamo. La radice quadrata è 64. Ti è piaciuto? Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Facciamo un altro numero ancora più grande. La radice quadrata di 9409. Vedrai che con questa tecnica stupirai la tua ragazza la prossima volta che sarai a cena e poi mi dovrai mettere un bel commento sotto. Allora, 9 finisce per 9. Quindi o, andiamo qui, 9 oppure questo. Quindi il nostro numero sarà o 3 oppure 7. Quindi il nostro numero finirà o per 3 o per 7. Poi decidiamo. Cancelliamo le ultime due cifre. Torniamo qui, abbiamo 94. 94 è molto semplice perché si pone a questo livello e quindi il mio numero inizierà per 9. E sarà 9, sarà o 93 o 97. Come faccio a decidere? Faccio 9 per il successivo di 9 che è 10, che è uguale a 90. Io ho il mio numero 94. Questa volta 94 è maggiore di 90 e dunque prendo il numero più grande dei due. 97. 97. A questo punto tu devi far prendere lo smartphone alla tua ragazza e dirle adesso 9.409 forza fa nella radice quadrata. BEM! 97. Benissimo. Andiamo avanti. Ti voglio far diventare esperto perché ti voglio bene e quindi voglio che tu faccia bella figura con la tua ragazza e ci prendiamo. Le dici adesso fallo tu. Glielo fai fare con un numero relativamente semplice. 7.225. Lei ti guarda stupita. Adesso le dici facciamo la solita tabella. 7.225. Ecco qui è molto semplice perché finisce con 5 e dunque non abbiamo nessuna scelta da fare. Sappiamo già che il nostro numero finisce per 5. Cancelliamo le ultime due cifre. Ci concentriamo sul 72. Il 72 si pone qui quindi il nostro numero inizierà per 8. Dal momento che non abbiamo scelta il nostro numero è già 85. Prendi lo smartphone fai 7.225 con sicurezza premi la radice quadrata e BEM! 85. Bene. L'ultimo è l'ultimo così davvero torniamo a un numero un po' più complesso e poi ti lascio. Il numero che voglio fare per te ancora è la radice quadrata di 6084. Ci ripetiamo la nostra tabellina. 84 finisce per 4. Quindi o siamo qui o siamo qui. Quindi il nostro numero finirà 84. Vedi? 4. 4. 4. Finirà o per 2 o per 8. Lo decidiamo successivamente. Togliamo l'84. Mediamo il 60. 60 ci poniamo qui. 60 ci poniamo qui. Quindi il nostro numero inizierà per 7. Inizierà per 7. E sarà o 72 o 78. Come faccio a decidere? Ho detto 7. Bene. Faccio 7 per 8. 7 per 8. che è 56. Quindi vedo il mio numero che abbiamo qui 60. 60 è maggiore di 56. Quindi prendo il maggiore dei due. Il numero che vado cercando è 78. Adesso afferri il cellulare forte di quello che già hai trovato. 6084 e ne fai la radice quadrata e vedi che è 78 così come avevamo detto. Bene. Se ti è piaciuto questo video adesso metti subito un mi piace. Iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto e ci vediamo per i prossimi video. Ma adesso tocca a te. E dunque dovrai iniziare a fare la radice quadrata di 3.364, 4.761, 2.025, 1.296, 4.796, 6.724.